Di fatto quello che è successo è che io ero di ritorno dal mio giorno di lavoro da Genova. Una volta arrivato a Villa San Giovanni, nel tentativo di prendere il traghetto, mi è stato negato l'imbarco. A quel punto mi sono rivolto all'ordine che erano messe fuori, addette proprio a controllare i green pass e chi era in partenza. E pur comprendendo la mia situazione non potevano fare nulla. Questo è stato, diciamo, quindi da lì si è cominciato ad accendere un tir e molla tra me, loro e i loro superiori. Ma di fatto anche parlando con un, non so, era un carabiniere, non si è mai identificato, però mi si è identificato con un superiore di questi due che c'erano lì al pezzale. E mi ha detto che comprendeva assolutamente quello che mi stava succedendo, però allargato le braccia e basta. Io ho detto che comunque era un palesemente strano quello che stava succedendo e che avrebbe potuto tranquillamente disapplicare la regola, no? Anche perché il Consiglio dei Ministri consente, secondo la tabella esplicativa che hanno emesso, credo il giorno prima, l'11 credo che fosse, si può passare da una regione con un mezzo privato, ma io che sono siciliano, comunque un isolano, non posso fare a meno di prendere un mezzo galleggiante per fare vai e vieni dalla mia terra. Dopodiché di fatto non si è smosso nulla, ho cominciato a dormire in macchina, perché non avendo il Super Green Pass non potevo nemmeno andare in qualche struttura recettiva. E lì si è smosso la bontà del popolo, nel senso che sono stato contattato da una famiglia di Villa San Giovanni e ho ricevuto ospitalità da loro. Io a quel punto ho dovuto contattare un avvocato affinché potesse presentare un ricorso di urgenza, soprattutto perché io dovevo tornare a casa, questa era la necessità primaria. Quindi lei, di concerto con un altro avvocato che si trova a Messina, ci siamo messi nelle condizioni di chiedere a un giudice che cosa ne pensasse della situazione. Diciamo che nel giro di veramente poco tempo si è espresso favorevolmente al fatto che io potessi salire sul traghetto senza l'esibizione di un Green Pass o Super Green Pass, ma solamente con un test negativo e una mascherina. Nella sentenza citava proprio il fatto che comunque c'è continuità territoriale e non si può pensare che si possa avere un mezzo diverso dall'auto che viene utilizzato da tutti quelli che stanno nella terraferma. Io dovrei avere in teoria un'auto oppure un anfibio per tornare a casa. Quindi di fatto c'è sicuramente qualcosa che non funzionava. Purtroppo c'è una nota negativa che è stata la conclusione di questa vicenda. Io a un certo punto sono scomparso per un giorno e mezzo circa. Non mi sono fatto vedere più vicino agli imbarcaderi. Mi sono tolto di mezzo anche perché non volevo che venisse strumentalizzata questa situazione. Quando ho saputo dall'avvocato che c'era il via libera per andare, mi sono diretto verso il porto. Prima mi sono andato a fare un tampone, sono andato poi verso il porto. E a un certo punto sono stato fermato prima dalla polizia, i poliziotti mi hanno chiesto ma lei c'ha la sentenza per partire? E io chiedevo scusate ma io sono qui su una strada pubblica, non sono all'imbarco. Cioè perché vi dovrei mostrare la mia sentenza? E quindi non comprendevo. No, un attimo deve arrivare il nostro superiore. Quindi mi hanno fermato in totale credo cinque volte in tre giorni durante la mia permanenza a Vile San Giovanni, tra carabinieri e polizia. Quindi mi hanno trattenuto lì finché non è arrivato questo ispettore di polizia in Borghese. Quindi in totale io, se non ricordo male, avevo cinque persone di fronte, due della volante e tre di andata in macchina civetta. L'ispettore mi ha chiesto se avessi sta sentenza. Ho detto sì, certo che ce l'ho. Dico ma a che titolo era me la stai chiedendo perché di fatto non c'entrate nulla voi. No, volevo vedere questa sentenza. C'era l'avvocato lì che era arrivato in quel momento e me l'aveva portata fisicamente. Ho detto guardi qua c'è la sentenza, sarà regga, insomma che devo dire. Mi hanno tenuto circa mezz'ora. Dopodiché finalmente mi hanno detto può andare. Ho ringraziato. Quindi mi dirigo verso gli imbarcateri. Arrivato in biglietteria, chiedo il biglietto. Hai il Green Pass? No, qua c'ho la sentenza e io l'ho mostrata. Un attimo solo. Nello stesso momento sono entrati i carabinieri che normalmente stanno lì sul piazzale a fare questi controlli. Si sono presi la sentenza e si sono chiusi letteralmente almeno due ore o due ore e mezza. Non ricordo, io ho filmato tutto nel mio archivio. E sono stati due ore e mezza con questa sentenza in mano, che alla fine sono quattro righe. Non capisco perché tutto questo tempo per leggere la sentenza. A quel punto ho cominciato a dire attraverso la fessura, avete idea di quello che state rischiando? Perché di fatto l'avvocato vuole andare in procura per denunciare sequestro di persone. Anche perché sulla sentenza c'era imbarco immediato. Io sono partito quattro ore dopo, il momento in cui ero pronto ad andare. Quindi alle quattro io sarei potuto salire sul traghetto, alle otto meno un quarto sono salito sul traghetto. Per far capire, diciamo, questo mi dispiace perché fino a quel momento le forze dell'ordine erano state veramente molto solidali e molto gentili. Quindi fino a quel momento la nota era tutta positiva. In quel momento devo dire che sono rimasto molto male. Ho avuto quasi paura che mi stessero cercando di far cadere in qualche tranello e farmi reagire e quindi fermarmi per qualche altro motivo. Però di fatto io, essendo sempre così molto calmo, non mi faccio prendere quasi mai la sporbista a questi avvenimenti. Quindi questa è l'unica, tra virgolette, nota negativa. Io non sono mai uno che dice, ah, te l'avevo detto, oppure potevi pensarci prima. Però sicuramente non ti possono far imbarcare anche solamente non esibendo il Green Pass. Quindi se te lo chiedono, al Green Pass non te lo voglio fare vedere, quindi non ti fanno salire. Quindi se tu vuoi creare un precedente, tu presidente della regione o tu sindaco di una città, puoi tranquillamente non esibirlo, ammesso che tu ce l'abbia, e andare davanti a un giudice. Dico, perché devi aspettare che un cittadino cominci a dormire in macchina e venga pestata la dignità di una persona in questo modo? Ecco, io li ringrazio perché comunque sicuramente mi hanno appoggiato in qualche modo. Però io sono sempre dell'idea che non si deve aspettare qualcun altro che faccia le cose per te. Questo è il motivo per il quale anche mi sono trovato in questa situazione.